Sono troppe, la mano così pesante non se lo aspettava nessuno, è anche vero che però potevamo essere, come ho detto prima, più intelligenti nel capire il momento della gara e nell'evitare di dare la possibilità all'arbitro di poterci anche buttare fuori, o quantomeno di non aggravare anche la situazione personale. Così non è stato, chi ha sbagliato, anche se ne è il primo consapevole ed è anche dispiaciuto per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica, però come credo sia giusto poi dopo alla fine è intervenuta anche la società e ne pagheranno anche le conseguenze. Beh, Paolo sta convivendo con questo leggero fastidio che ha ancora sulla caviglia, però è un giocatore che sta decisamente meglio dopo che aveva avuto il fastidio muscolare nella gara di Alessandria. È un giocatore che ha grande qualità, ha spessore morale, spesso a disposizione anche dei più giovani in maniera positiva, con consigli, li prende a braccetto, quindi è un giocatore importante anche extra parte tecnica. Poi per le qualità che ha è un giocatore che ti può spostare gli equilibri della gara e quindi ci aspettiamo che possa riuscire a mettere a disposizione dei compagni di squadra quelle che sono le sue qualità, come del resto ha fatto a più riprese anche Orazio, anche Erpian, quindi sono due giocatori che hanno la possibilità di incidere in maniera importante sull'andamento della gara. Solini è stato bravissimo a crescere in maniera graduale dall'inizio del ritiro ad ora, è già un mese che il ragazzo ha acquistato condizione atletica, ha acquistato convinzione dei propri mezzi, ha acquistato anche quella cattiveria agonistica che spesso è necessaria in questo campionato ma è necessaria nei difensori centrali. Ne ho avuto la riprova nella gara di Coppa Italia a Prato e la dimostrazione è stata che chi fa bene in allenamento e chi fa bene in gara viene sempre preso in considerazione dallo staff tecnico e a Livorno ho ritenuto di buttarlo dentro e anche a Livorno si è fatto trovare pronto quindi il percorso è un percorso diverso perché sono situazioni diverse però gli accomuna il fatto che in questo momento stanno entrambi bene e se verranno chiamati in causa sono sicurissimo che faranno a pieno il loro dovere. Con equilibrio bisognerà essere bravi, bisognerà essere bravi, non avere fretta perché è una squadra che in alcune situazioni è sì vulnerabile però se vogliamo risolvere la pratica senza mantenere equilibrio ci potremo esporre a dei contropiedi dove loro sono veramente temibili, sono micidiali e hanno grande grande gamba, grande voglia di attaccare la profondità soprattutto con i due attaccanti esterni e le due mezzale. Hanno due terzini che partecipano molto alla fase offensiva e quindi ci costringeranno ad una gara molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista dell'attenzione.